Sì, le statistiche sono sicuramente allarmanti perché un'incidenza di sovrappeso così elevata nei bambini e sicuramente non promette bene per quello che sarà la salute dei futuri italiani adulti. Gli errori commessi dalle famiglie possono essere di diversi tipi, sia per quello che riguarda lo stile di vita inteso come attività motoria dei bambini, che rimane comunque molto scarsa, sia riguardo all'alimentazione. Molti sono gli errori nello stile alimentare dei nostri bambini, partendo per esempio dalla cattiva abitudine di non fare una giusta prima colazione e così come un altro errore dei genitori è quello di non essere cosciente del problema del sovrappeso. Molto spesso il genitore ritiene che il proprio figlio non sia in sovrappeso anche se il pediatra lo avverte che questa è la realtà. Sicuramente bisogna cercare di modificare il regime alimentare dei bambini, ripeto, partendo dalla prima colazione che è fondamentale e deve essere fatta in maniera corretta, ma così e come per tutto quello che è il ritmo alimentare durante la giornata, indipendentemente dal fatto che il bambino mangia a scuola oppure mangia a casa tutti i pasti della giornata. Certamente e purtroppo noi sprechiamo tanto perché tendiamo a comprare più del necessario e ad avere forse paura che nelle nostre dispense o nei nostri frigoriferi non ci siano abbastanza alimenti. E un altro errore, anche alimentare, è il fatto di permettere al bambino una scelta troppo vasta tra gli alimenti, nel senso non esiste più la buona regola che si mangia quello che viene portato in tavola. Sicuramente bisogna cercare di assecondare i gusti del bambino, ma bisogna fare attenzione che questo non determini un restringimento delle sue scelte alimentari in modo da avere adulti che poi alla fin fine escluderanno la maggior parte degli alimenti perché ritengono che non siano a loro graditi, mentre in realtà non li hanno neanche mai provati. E questo comporta ovviamente uno spreco. Se in casa compro pesce per quattro persone perché siamo in quattro e poi i due bambini non lo mangiano, butterò via due porzioni di pesce.